Buonasera, benvenuti, ben ritrovati nella nostra tribuna politica. In questo nostro viaggio nei comuni interessati dalle amministrative dell'8-9 giugno. Questa volta, quest'oggi sono con noi candidati a sindaco del comune di Atri, città di 10.000 abitanti che comunque è politicamente effervescente e significativa perché comunque anche le ultime regionali ha espresso comunque sicuramente tanti candidati. Quindi inizio con il dare il benvenuto a Gianmarco Marcone di Prospettiva Atri. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Doel, benvenuto a Pier Giorgio Ferretti per Atri Ferretti sindaco. Buonasera. Salve, grazie. Eppure io ringrazio naturalmente la redazione di Super J. Chiedo scusa per la voce ma purtroppo... I comissi della campagna elettorale vi chiedono... No, no, sto così già da un mese purtroppo. Non riesco a risolvere. Di biotici medicinali ma non se ne viene fuori. La sta ammazzando questa campagna elettorale. Allora, intanto introduco ai nostri telespettatori sicuramente gli schieramenti di appartenenza. Diciamo che lei, Marcone, è sicuramente riconducibile al partito di azione ma comunque alla coalizione di centrosinistra, mentre lei, non so se chiamarlo sindaco uscente, diciamo, è riferibile sicuramente ai partiti centrodestra. Porto con lei, Marcone, io ho detto non so se chiamare Ferretti il suo avversario sindaco uscente perché in teoria, diciamo, questa consigliatura è stata interrotta, diciamo, da un ricorso per via, diciamo, come dire, un'incertezza su questi 11 voti ballerini che sono stati messi in discussione da quella che è stata la coalizione che si era proposta in precedenza contro il sindaco Ferretti. E così ci può ricostruire un attimo come è andata, diciamo, la fine di questa consigliatura e perché lei si candida al sindaco? Beh, allora, la questione è nota a tutti. C'è stato un... dopo un primo ricorso al TAR respinto, proposto dall'ex candidato sindaco Alfonso Prosperi, c'è stato un ricorso davanti al Consiglio di Stato con sei ricorrenti. Li ricordo anche, insomma, per un fatto di riconoscimento per l'impegno, che sono Gabriella Liberatori, il sottoscritto, Antonelli Innamorati, Livio Nespoli, Alessandro Demetrio, penso di averli ditti tutti, e Gianluigi Antonelli, anzi no, Gianluigi Antonelli. E c'è stato questo ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha decretato, diciamo così, l'annullamento delle elezioni per tutta una serie di gravi irregolarità. Ha rimesso, alla fine, diciamo, la palla, si passa il termine metaforico, alla Procura della Repubblica, affinché la Procura effettuasse accertamenti per verificare eventuali responsabilità di natura penale. Peraltro c'è ancora in corso l'indagine, quindi personalmente ritengo non opportuno dilungarsi più di tanto nel merito di questa vicenda, essendoci ancora un'indagine in corso. Però i fatti sono sostanzialmente questi. Ma lei è vero che ha messo un po' in qualche modo il cappello politico, diciamo, su questa operazione? Io non ho messo nessun cappello politico, io sono stato tra quelli che ha firmato il ricorso. Alcuni altri non l'hanno firmato, io l'ho firmato, tutto qui. Il merito è di tutti quelli che ci hanno creduto fino in fondo, io sono stato tra quelli. Senta, per chi, diciamo, per i telespettatori, ovviamente i cittadini e i tirani la conoscono, perché lei è stato già, insomma, in passato candidato a sindaco, per chi, insomma, non la doveste conoscere. Lei come si presenterebbe? Chi è? Beh, io sono sicuramente, vengo da un percorso, diciamo, articolato. Ieri nel comizio di presentazione il professor Ferretti ha parlato del mio, come dire, percorso e io non nego il fatto di essere stato, come dire, assessore nella lista nel 2008 guidata, capitanata, Gabriella Stolfi. Dopodiché ho fatto un percorso politico, come si dice, sbagliare umano e perseverare diabolico. Mi sono dimesso nel 2017, non condividevo più tante cose, non è, come qualcuno sostiene, che per quanto mi riguardava il motivo fosse legato al fatto che io non ero stato individuato candidato a sindaco. Il fatto che io non avessi questa ambizione spasmodica è dimostrato e certificato dal fatto che anche alle scorse elezioni amministrative ho sostenuto Alfonso Prosperi ed ero pronto a rifarlo anche questa volta. Poi il dottor Prosperi, per ragioni personali, professionali, ha ritenuto di non doversi più candidare e quindi inevitabilmente il mio nome è venuto fuori. Io vengo fuori negli ultimi anni, da circa otto anni di opposizione al governo Ferretti in questi ultimi cinque anni e ad una parte dell'ultimo governo locale di Astolfi e quindi ho fatto un percorso all'interno di questa, diciamo così, di questa opposizione e alla fine dopo il passaggio di consegne, se vogliamo, avvenuto a seguito del venir meno della figura di Alfonso Prosperi, il tavolo politico ha designato la mia persona quale candidato sindaco. Ok, Ferretti lei ha cinque minuti anche lei per presentarsi, ha già detto che lei è un professore ecco ci presenta, introduce un po' la sua candidatura e se è d'accordo con la ricostruzione fatta dal suo avversario circa l'interruzione della consigliatura. Beh no, naturalmente io non sono d'accordo, intanto vorrei far notare che tra i ricorrenti al Consiglio di Stato non c'era il dottor Prosperi, quindi quello che maggiormente doveva essere interessato perché era il candidato sindaco della coalizione uscente che aveva perso le elezioni, il motivo, e questo non ce l'hanno mai spiegato, come mai il dottor Prosperi non abbia inteso partecipare a quel ricorso e soprattutto non siamo d'accordo perché lo riteniamo un ricorso irresponsabile, semplicemente fatto per tornare al potere da parte di chi non ha accettato una sconfitta perché quegli undici voti in più c'erano e quindi noi avevamo vinto seppur di poco e poi perché riteniamo paradossale quello che è accaduto perché di fatto lì tutto poggia sostanzialmente su un'ipotetica scheda ballerina e su una dichiarazione della segretaria del seggio, il cosiddetto seggio numero 7 che arriva postuma dopo sette mesi dove praticamente si dice che una signora sarebbe entrata con una scheda dall'esterno. Questo non era di fronte a un fatto così grave, la segretaria del seggio addirittura non ritenne di bloccare le operazioni elettorali, non ritenne di chiamare la forza pubblica, non ritenne addirittura di verbalizzare nulla, se ne è ricordata dopo sette mesi, questo ovviamente appare paradossale anche e soprattutto perché abbiamo raccolto dichiarazioni successive a seguito di un esposto che anche qui paradossalmente alla procura abbiamo fatto noi e non ricorrenti perché quella scheda in più era stata per errore presa già che componenti che addirittura, scrutatori che lì hanno fatto, hanno aiutato loro a compilare le liste, poi hanno reso noto il fatto che addirittura facevano dei controlli parziali e la seconda scheda era stata presa all'interno del seggio. Questo senza contare il fatto che quella seconda scheda, sempre con dichiarazioni successive alla sentenza del Consiglio di Stato, era a favore della lista del dottor Prosperi. Ovviamente io mi assumo la responsabilità di quello che dico, cioè che quella scheda non era a favore nostro e quindi se scheda ballerina c'è stata, semmai sarebbe stata fatta dalla coalizione opposta che addirittura ha presentato un ricorso dicendo che un elettrici di 70 anni che conosciamo tutti sarebbe stata coartata. Se questo è accaduto, le minacce semmai non le abbiamo fatte noi, ma le ha fatte la parte opposta. Si presenta, presenti la sua coalizione. Sono un insegnante di matematica e fisica, la coalizione sostanzialmente è quella che si presenta con il centrodestra, con il centrodestra unito. Sono, dicevo, un insegnante di matematica e fisica presso il locale liceo di Atri. Ok. Per quanto riguarda appunto, visto che lei premeva un attimo, quindi colgo l'occasione per chiedervi che campagna elettorale è, diciamo, come sono i toni a vostro giudizio reciproci? Intanto mi corre l'obbligo di replicare quello che ha detto Pier Giorgio Ferretti adesso, che è piuttosto grave, attribuendo addirittura alla seconda presunta scheda ballerina il voto in favore del dottor Alfonso Prosperi. Mi suona alquanto strana questa dichiarazione perché l'indomani del fatto, in comune, sono state chiamate persone per rendere dichiarazioni spontanee e mi risulta che la persona in questione, ma risulta a me perché è scritto sulla sentenza, abbia dichiarato precisamente di essere stata fermata mentre lei inseriva la seconda scheda, di aver preteso che quella seconda scheda che il Ferretti riferisce essere stata votata in favore di Prosperi, di aver preteso che quella scheda venisse incollata, quindi non aperta, incollata ed imbustata davanti all'ufficio elettorale, dopodiché quella busta nella quale era stata inserita la seconda scheda è stata sigillata con l'indicazione deteriorata. Io ho qui la sentenza che riporta la dichiarazione della signora a cui faceva riferimento il professor Ferretti, la dichiarazione che è stata fatta, dichiarazione spontanea che è stata rilasciata in comune dalla signora, che dice esattamente questo. Aveva riferito che le erano state consegnate due schede sovrapposte, aveva votato entrambe che una delle due schede era stata inserita dalla signora X nell'urna, mentre l'altra è stata restituita chiusa ed incollata dinanzi alla stessa, così preservando la segretezza del voto ed inserita nella busta relativa alle schede deteriorate. Mi perdoni, questa è pagina 15 della sentenza che conta 34 pagine, quindi asserire, il Ferretti che asserisce di sapere perché lui ha conferito mandato... Ferretti è un uomo di numeri, lei è un uomo di legge, diciamo che avete... La scheda noi la definiamo giornalistamente ballerina e avete contrapposizioni, diciamo, direi sul tema. Sì, io lo baso su dichiarazioni successive a quelle della sentenza, secondo cui appunto quella scheda invece sarebbe stata aperta. Ok, non torniamo sulle schede, che campagna elettorale è? Di quello che dico, qui l'ho già detto, pubblica piazza e lo ripeto pubblicamente. Sì, sì, ma lui ha fatto... La campagna elettorale è, diciamo, una campagna elettorale serena o avvenuta al di là di questa scheda ballerina che vogliamo sperare, insomma, resti, come dire, tra le pieghe della vicenda giudiziaria. Allora, dobbiamo essere realisti, no? Cioè non è che stiamo andando a fare una scampagnata tutti insieme. Le campagne elettorali sono queste, hanno le loro asperità, hanno le loro dinamiche, che non è che possiamo cambiare noi ad Atari come non può cambiare nessun altro nei comuni limitrofi. La campagna elettorale è la campagna elettorale. Tutti esordiscono nei loro discorsi, dicono, ma noi faremo, non faremo la campagna, così come è stato anche ieri fatto, no? La presentazione di noi non faremo la campagna attaccando nessuno. Poi, voglio dire, le dinamiche prendono un'altra piega. Ed è fisiologico, non mi scandalizzo, come credo non si scandalizzi per Giorgio Ferretti di queste cose. Ci può stare, la critica politica è giusto che si faccia, è giusto che si mettano in evidenza quelli che sono gli aspetti che non funzionano, perché io credo e sono certo che io, per quanto mi riguarda, sono mosso da un principio che è quello del valore superiore, che è quello, diciamo così, della comunità. E credo che anche lo stesso Ferretti questo lo dica. Ferretti è anche... Sì, nei limiti, insomma, sì, nei limiti di una competizione elettorale, che in quanto competizione, ovviamente alle volte rischia di diventare, come diceva Marcone, può diventare un po' dura. Però al momento si sta mantenendo nei limiti, cercherò... Della civiltà! Ovviamente... Siamo solo agli inizi, voglio dire. ...di mantenere assolutamente nei limiti della civiltà e soprattutto, ecco, in modo tranquillo è assolutamente sereno, perché l'obiettivo naturalmente è far capire soprattutto alla cittadinanza, da parte nostra, che siamo una coalizione uscente, quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo realizzato, ma soprattutto i programmi e quello che vogliamo realizzare nell'interesse della collettività. Bene, devo dire a onor di cronaca anche per verso i nostri telespettatori, che insomma entrambi voi i candidati avete accolto, insomma, il nostro invito senza remore, diciamo l'uno e l'altro, non abbiamo avuto la stessa fortuna in altri comuni, dove ci sono stati invece insomma candidati che si sono sottratti, dizio che non voleva venire con Caio, quindi almeno insomma devo rendere merito alla prontezza con cui avete affrontato il dibattito. Riporto un attimo da lei, il sindaco arriva un attimo alle domande insomma un pochino più maliziose. Alla vigilia, diciamo, per entrambi si è parlato in qualche modo di spaccature, lei inizialmente sembrava che non godesse proprio di un afflato amoroso con Fratelli d'Italia, poi la cosa sembra essere rientrata, dopodiché c'è stato qualche indugio della Lega, ma sembra più legato a questioni forse inerenti, come dire, la composizione degli assetti post-regionali e che cosa è successo? Ma sono state questioni minime, tanto che per quanto riguarda Fratelli d'Italia, in realtà ad Atri io ho avuto l'unione iniziale già di tutti i partiti e di tutta la coalizione uscente e di tutti i consiglieri uscenti, cioè c'era l'unione sul mio nome. Poi ecco, Fratelli d'Italia, qualche piccolo, ha posto qualche piccolo dettaglio che poi si risorse subito, appunto a fronte del fatto che ad Atri c'era un'unione, un'unione assoluta, tanto che nella mia coalizione non sono usciti mai altri nomi, perché altrimenti semmai nell'interesse appunto della coalizione e del centro-destra, di fronte a nomi più forti ovviamente mi sarei tirati indietro e avrei dato il mio contributo, però non è uscito mai un altro nome sul tavolo e risolvemmo una questione nel giro insomma di qualche giorno, il tempo di incontrare i provinciali. Ok, Marcone, anche la sua candidatura, insomma lei veniva dato ufficiale da tanto tempo, però l'ufficialità, quella vera, quella col sigillo, diceva l'acca, insomma, sentava ad arrivare, che è successo? Noi ci abbiamo... Si diceva che insomma c'era questo Prosperi Ballerino, il Prosperi l'ex candidato, poi l'altro Prosperi dell'Asp che sembrava volesse azzoppare... Prosperi Ballerino. A lei c'era un Prosperi Ballerino, quindi c'era una scheda, qui c'era un Prosperi. Beh, insomma, io ovviamente parlare degli assenti è sempre una cosa antipatica, le dinamiche dei fatti la conoscono un po' tutti, le conoscono un po' tutti. Quindi io credo che il dottor Prosperi, Alfonso, abbia fatto delle valutazioni puramente personali, insomma, non credo ci siano altre motivazioni che l'abbiano, come dire, indotto a cedere il passo, semplicemente questo. Per quanto mi riguarda poi... Ma è vero che lei era ritenuto troppo poco di sinistra per aggregare la coalizione? Beh, guardi, io non lo so, questo non lo so, a me nessuno mai me l'ha detto in faccia un fatto del genere. Io so soltanto che per quanto mi riguarda credo che nessuno possa distribuire patenti di appartenenza politica a destra o a sinistra. Il mio percorso politico è chiaro. La prima tessera che ho avuto è stata la tessera del Partito Socialista a 18 anni. Dopodiché sono rimasto civico fino all'anno scorso quando ho aderito al Partito di azione. Vengo da una cultura di estrazione di centrosinistra, non sicuramente di una sinistra estrema. Io credo che nella, come dire... Anche nella vicina Giulianova, diciamo, alla sinistra non si è riportata. No, no, ma non è un fatto, come dire, un voler puntualizzare per evitare di scivolare sulla buccia banale. È semplicemente un dato reale. Se qualcuno mi ha ritenuto poco di sinistra, voglio dire, non starò qua a sprincipiarmi pur di far capire l'esatto opposto. Io nel bene o nel male sono quello che sono. Le persone mi conoscono, sanno chi sono, sanno che cosa faccio, qual è stato il mio percorso politico. Quindi voglio dire, è inutile giocare a nascondersi dietro un dito. Il tavolo politico, tanto per ritornare sull'aspetto politico, ha designato la mia persona, il tavolo politico è il luogo politico deputato alle scelte. Il tavolo politico è composto da partiti politici, nel caso di specie del Partito Democratico, dal Partito di Azione, dal Movimento 5 Stelle, da soggetti civici, officine atriane, atri al centro, un gruppo, un neonato gruppo di giovani che ha aderito al nostro tavolo. E da quel tavolo è stato designato, sono stato designato io. Magari per qualcuno sarebbe stato più auspicabile qualcun altro, però è nei fatti. L'interessante poi è capire che quando si arriva ad un punto di caduta è necessario poi doversi riallineare e remare tutti verso lo stesso obiettivo, che in questo caso, nel nostro caso, è quello di creare una discontinuità amministrativa rispetto a chi ha amministrato atri fino a poco tempo fa. Ecco, una domanda che chiedo entrambi, avete due minuti entrambi. Ci sono, diciamo, come dire, esclusi eccellenti o imbarcati eccellenti, diciamo, nelle vostre liste che, diciamo, che in qualche modo rappresentano delle curiosità, insomma, che volete mettere in evidenza? Bene, c'è un esempio, insomma, prima parlavamo di Prosperi che non si è ricandidato con Marcona, ma magari penso a Umberto Italiani, insomma, che non si è ricandidato con... Ecco, se volete citare degli esclusi, assenti, eccellenti. Umberto Italiani non era consigliere comunale, non si era candidato, quindi non è né una new entry, perché non è ricandidato, né un escluso. Ok. Diciamo che ormai la presentazione della mia lista è stata fatta, è una lista, come ho detto... Ci sono molti amministratori, comunque. Con grande piacere, dove c'è la conferma sostanzialmente di tutti gli uscenti, tranne alcuni che comunque sono rimasti ampiamente nella squadra e hanno deciso, comunque stanno facendo campagna elettorale per la mia coalizione e oltre a tanti amministratori ci sono anche quattro nuovi candidati, oltre a un gruppo che viene, che fino all'anno scorso era con il centro-sinistra, il gruppo di liberi e forti, con la candidatura di Michele Capannapisce, più quattro nuovi candidati al Consiglio Comunale di Atri, nelle persone di Laura Paolini, Stefania Feliciani, Ludovica di Nicola Antonio e il dottor Enrico Marini. Sono quattro fortissime professionalità che potranno dare un grandissimo contributo a partire dal dottor Enrico Marini. Medico, giusto. Sì, primario della medicina, del reparto di medicina di Atri, che ha dato un grandissimo contributo durante il periodo del Covid e che sicuramente sarà il punto di riferimento per quanto riguarda la politica sanitaria, sarà la mia voce per quanto riguarda l'ospedale San Liberatore e quindi rappresenta naturalmente un investimento sul futuro, soprattutto sul futuro dell'ospedale. Poi altre professionalità. Laura Paolini, che è una commercialista nota in Atri, quindi a modo anche di rappresentare, se vogliamo, il mondo dell'imprenditoria, Stefania Feliciani, che è una psicologa quindi molto sensibile ai temi del sociale e poi Ludovica di Nicola Antonio a Fontanelle, dove l'amministrazione uscente, la mia lista, abbiamo fatto un grandissimo investimento perché siamo convinti che sulla sezione numero 10, per così dire, su quella realtà locale, proprio su Fontanelle, siamo convinti che rispetto all'anno scorso, dove a seguito della candidatura del dottor Prosperi, che era di Fontanelle, l'aria sia molto cambiata e che sia molto a favore del centro-destra e quindi con due candidati pensiamo di poter conseguire un ottimo risultato. Quindi non ci sono esclusi, mentre ci sono nuovi candidati. Ok, il candidato Prosperi ha fatto dei ragionamenti molto matematici, molto, come dire, lei invece per quello che riguarda la sua lista, insomma, può formulare degli ingressi eccellenti? Allora, la lista che noi abbiamo costituito nasce su una riflessione molto semplice, noi ci stiamo contrapponendo a chi ha gestito la cosa pubblica negli ultimi 15 anni, fondamentalmente come ha detto Pier Giorgio prima, in buona sostanza sono sempre gli stessi, fatte eccezioni di queste new entry e quindi io ho ritenuto invece necessario e doveroso, in virtù della necessità di dare discontinuità amministrativa, dover fare una lista fatta prevalentemente di volte nuovi, totalmente nuovi. E quindi abbiamo puntato su questo metodo, ci siamo dati questo metodo, fermo restando che ovviamente all'interno della lista sono presenti anche persone di affidabilità, come dire, certa, dico un nome su tutti, Ugo Giuliani, il collega Ugo Giuliani, c'è Cesare Zippilli, ma per l'80% possiamo dire che la lista è totalmente ringiovanita, una lista fatta di persone professionisti, mi viene da pensare il primo nome, quello del dottor Giacomo Ruggeri, che è il candidato della frazione di Treciminiere, un medico che lavora presso l'ospedale clinicizzato di Chieti, ci sono dei giovani validissimi che lavorano in aziende importanti come Alessandro Graziosi, è un ingegnere che lavora in un'importante azienda del territorio terramano, anche lui, diciamo, persona che comunque ha maturato esperienza anche in questi anni, seppur non da diretto candidato, soprattutto alle scorse elezioni amministrative, ma è sempre stato nel mondo della politica, ci sono dei giovani locali che lavorano anche loro in aziende importanti del territorio e che sono introdotti nella nostra città in associazioni sportive, in associazioni culturali, c'è Olga Derrocino che è una giovane madre, giovane, insomma, una ragazza, una moglie, una madre che è presidente di un'associazione sportiva importante, insomma, in buona sostanza la lista ha quel giusto mix di freschezza, proprio perché ormai la situazione in Atria, anche da un punto di vista politico, è appesantita da questa amministrazione che in buona sostanza si ripropone in blocco, e il giusto mix, dicevo, tra nuovi volti e persone esperte. Bene, vi ringrazio, andiamo qualche minuto in pausa pubblicitaria, dove, insomma, subito dopo affronteremo un attimo il tema dei programmi che è quello sicuramente a cuore dei cittadini. Rimanete con noi qualche minuto. Eccoci, ben ritrovati nella nostra tribuna politica, il nostro salotto serale di approfondimento sui temi della politica, nel nostro, diciamo, viaggio per i comuni interessati dal voto delle amministrative dell'8-9 giugno. Oggi appunto ho il piacere di ospitare i candidati a sindaco del comune di Atria, rispettivamente Pier Giorgio Ferretti e Gianmarco Marcone. Marcone, riparto un attimo da lei per, diciamo, un attimino illustrare quelli che sono i punti qualificanti del suo programma elettorale. Allora, noi partiamo da una valutazione, ovviamente è tutta nostra, ma credo che sia anche, insomma, abbastanza oggettiva, di una Atria un po' in una fase decadente, un po' sotto tutti i punti di vista. E pensiamo, riteniamo, che per poter garantire un futuro a questa città si debba lavorare assolutamente rispetto all'idea di portare quantomeno un'attività produttiva importante che restituisca speranza, quindi occupazione stabile e duratura. Ovviamente per fare questo occorre lavorare in sinergia anche con il mondo dell'imprenditoria. Abbiamo visto anche dalle recenti esperienze di altri comuni a noi vicini, come Mociano, come la stessa Notaresco, che attraverso gli sgravi vantaggi e le opportunità create dalla cosiddetta ZES, è stato possibile attrarre investimenti con, diciamo, grandi risvolti da un punto di vista occupazionale. Purtroppo questo ad Atri non è possibile, perché ad Atri abbiamo perso questa opportunità. Sulla responsabilità politica lascio a voi le valutazioni, però resta il fatto che è semplice, non è adesso ragionare da questo punto di vista. Però io credo che sia necessario doverlo fare, perché soltanto attraverso il lavoro è possibile tracciare il futuro. Poi è chiaro che Atri, per la vocazione che ha come struttura sul poggio, sulla collina, eccetera, Atri ha una vocazione sicuramente di natura turistica, sicuramente di natura culturale, quindi noi vorremmo riallacciare quelli che sono stati rapporti con l'università, cercare di portare su Atri un corso di alta formazione universitaria che possa dare a Atri anche la possibilità, diciamo così, di declinarsi da un punto di vista anche culturale, diciamo così, prendendo uno standing che le compete naturalmente. Vorremmo lavorare, per esempio, giusto per citare una cosa a cui io tengo molto, vorremmo lavorare al gemellaggio, non vorrei però dare un suggerimento all'amico Ferretti, scherzo ovviamente, un gemellaggio con la città di Firenze, perché noi condividiamo con la città di Firenze la Santa Patrona, che è Santa Reparata, e avviare un'operazione di questo tipo potrebbe consentirci anche in quell'ottica di rilancio culturale di poter magari anche avere dei suggerimenti da una città che sicuramente fa del turismo, fa della cultura la propria, come dire, la propria identità. Quindi questi sono dei temi su cui noi vogliamo assolutamente lavorare. È chiaro che poi questi sono ovviamente dei temi spot, no? È chiaro che c'è da recuperare anche rispetto a quella che è la quotidianità, cioè i lavori di piccola minuteria. Purtroppo registriamo una sorta di degrado, una atri sporca, una atri, diciamo così, non curata. E quindi anche lavorare per restituire un'immagine più armonica, più pulita, di cittadina, insomma, che si apre anche da un punto di vista turistico a quelle che sono, diciamo così, quelle che sono le opportunità che questo settore può avere. Però è necessario avere anche, come dire, un decoro, una pulizia, un ordine che purtroppo noi registriamo, non registriamo in maniera favorevole da questo punto di vista. Ok, Sindaco, c'è anche lei, Sindaco, in realtà non è più Sindaco il candidato. C'è ragione. Allora, anche lei tre minuti e mezzo per, insomma, lo strano. Intanto però mi corre l'obbligo un attimo di replicare a quello che ha detto Gianmarco, perché intanto ha detto che si oppone a 15 anni di amministrazione. Beh, io non posso fare a meno di non evidenziare questa sorta di contraddizione, perché in 15 anni di amministrazione in realtà lui ne ha fatto parte come assessore per nove anni e mezzo e quindi sostanzialmente appare paradossale che si stia contrapponendo a se stesso. Per quanto riguarda la Atri sporca e non curata, noi ormai sono cinque mesi che non ci stiamo, quindi non lo so, probabilmente si riferisce non a noi ma alla gestione commissariale. Poi soprattutto per quanto riguarda le ZES, perché parlare di responsabilità politica è paradossale, dato che ci sono dei criteri oggettivi per entrare nelle ZES e ad Atri l'unica zona industriale, cioè quella che si trova sotto alla Stracca, ovviamente non poteva entrare nelle ZES perché non è ovviamente una zona economicamente svantaggiata, dato che sotto alla Stracca ci sono sostanzialmente quelle che sono le due ditte forse più grosse di tutta la provincia di Teramo, cioè la Ital per fabbricati e l'Aran, tanto che ad esempio nelle altre realtà entrate nelle ZES, ad esempio a Notaresco c'è entrata una delle zone industriali che ha, cioè quella più a nord dove veramente non c'è niente, così a Roseto c'è entrata una delle due, cioè quella vicino qui in prossimità dell'autoparco dove sostanzialmente non c'è niente, cioè entrare nella ZES vuol dire che quella zona, quella determinata area industriale deve avere determinate caratteristiche che per i motivi che ho detto l'unica zona industriale che c'è ad Atri, perché quella che poi c'è in zona Piane Sant'Andrea non è una zona industriale ma è una zona artigianale, non può godere ovviamente di quei determinati vantaggi. Ecco poi per quanto riguarda gli aspetti programmatici, beh ho sentito, non voglio rubare nessuna proposta, per quanto riguarda fatta dal centro-sinistra, anche apprezzabile, anche se non condividiamo la patrona, la condividevamo nel senso che attualmente la patrona di Firenze in realtà non è stata reparata. Sicuramente gli investimenti, dicevo, ad Atri stanno arrivando, perché sono stati riacquistati tutti gli opifici, tutti gli opifici che precedentemente avevano chiuso perché travolti dalla crisi, sia quelli di Ezzi, quelli diciamo al ridosso della Rotonda e quello dove è nato in una piccola porzione l'ex Tigre, sia quello della ex Iezoni, sia in Viale Aldomoro che in località San Martino e sia quello della Menozzi a fianco alla chiesa di San Domenico. Questa è la testimonianza che investimenti importanti sono arrivati anche sotto il profilo turistico, dove sono stati investiti da stranieri con il riacquisto sia delle due ville di Iommarini e Mattucci e sia della torre relativa al palazzo, sorricchio in prossimità della ex scuola guida, quindi anche lì ci sarà un ampliamento di posti letto. Però io il programma ora non l'ho potuto descrivere, ma io ho il dovere di dire pure quello che è stato fatto, quindi ce l'ho un minuto. Sì, ce l'ha un minuto, lo concede l'avversario un minuto, però purtroppo io questo... Le dà un altro minuto. Per quanto riguarda il programma, ecco, ci occuperemo soprattutto di un ulteriore incentivo al turismo sotto tutti i punti di vista, sia il turismo religioso con tutte le chiese, il turismo sportivo, con il rilancio dei CTI, abbiamo in itinere due finanziamenti, uno con il PNRR e uno con la regione Abruzzo per metterlo a norma e per rilanciarlo completamente, con nuovi posti letto nella zona bullying, anche per l'aggiare, oltre al turismo sportivo, anche il turismo scolastico, il turismo in tutte le sue forme per la valorizzazione del patrimonio storico architettonico. Ok. Poi, non posso concludere. No, 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 va bene. Per me può concludere. Può concludere, va bene. Poi lo recupero, diciamo, successivamente nel puntato. Sì, ok. Poi ecco, sotto, oltre all'aspetto turistico, abbiamo anche il dovere di salvaguardare quel grosso patrimonio calcolabile ormai che riguarda il polo scolastico, abbiamo il dovere di salvaguardarlo e poi, ovviamente, il rilancio, oltre che del centro storico, del presidio ospedaliero e sotto questo punto di vista, come dicevo prima, la figura di Enrico Marini rappresenta naturalmente un grosso investimento e una sicurezza, proprio perché abbiamo preso questa decisione anche insieme, proprio per la sensibilità che c'è ad Atri, per quanto riguarda la politica sanitaria e poi tanto altro, di cui parlerò perché mi rendo conto. Ok. Non voglio rubare altro tempo. Chiedo, diciamo, vi potete ragganciare, in qualche modo quanto è importante, diciamo, la filiera politica e la vicinanza, diciamo, agli organi sovracomunali? Dovrebbe essere fondamentale, essenziale. Oggi registro con attenzione le parole del professor Ferretti, Pier Giorgio, che anziché fare, dopo tutti questi anni di amministrazione, sia da sindaco che da vice sindaco, da assessore, eccetera, però io mi sarei, come dire, aspettato un elenco infinito di opere pubbliche, di servizi attivati, eccetera, oggi io registro da Pier Giorgio una serie di operazioni programmatiche che sono, come dire, lanciate in là, oltre l'ostacolo, cioè nel medio-lungo termine, che dovrebbero servire a rilanciare Atri sotto il profilo culturale, sotto il profilo turistico, eccetera, eccetera. Io credo che dopo tanti anni di amministrazione oggi dovremmo invece ragionare di cose fatte piuttosto che di cose da fare. E su questo credo che ci sia un'attenta valutazione, perché la filiera politica probabilmente non ha sortito quell'effetto sperato. Quindi lei ritiene che sia importante comunque? La filiera politica è fondamentale, è fondamentale. Però per quanto riguarda, diciamo, l'area di centrodestra che ha amministrato il Comune di Atri, io non ho visto questa, diciamo, l'importanza tradotta poi in opportunità, in finanziamenti ottenuti, eccetera, eccetera, o probabilmente l'ho vista in una parte assolutamente minore. Faccio un esempio banale. Ricordo Pier Giorgio alle scorse elezioni amministrative, quando era candidato contrapposto ad Alfonso Prosperi, in una convention che fece, invitò l'allora presidente del Consiglio regionale Sospiri ad Atri per parlare, insomma, ovviamente di queste politiche, eccetera. E lo stesso Sospiri, in quella circostanza, dopo tutta una serie di situazioni che si erano verificati sull'ospedale, ebbe a dire che l'ospedale di Atri meritava un giusto risarcimento. Lo disse Sospiri, ditemi se sbaglio, no? Come a dire che oggettivamente Atri aveva dato e che però non aveva ottenuto. La situazione in buona sostanza è rimasta la stessa. Cioè, c'è la consapevolezza che Atri non è stata, come dire, equamente attenzionata rispetto ai contributi, ai finanziamenti, rispetto alle opportunità. Probabilmente c'è anche da parte di chi oggi riveste ruoli istituzionali ad alto livello. Il problema di fondo però qual è? È che obiettivamente questa, come dire, questa attenzione poi non si trasferisce all'atto pratico in opportunità reale. Per quanto riguarda, mi corre anche l'obbligo di fare alcune puntualizzazioni rispetto a quello che ha detto prima Ferretti, rispetto agli investimenti sul territorio, il famoso supermercato Tigre, tanto per intenderci. Le operazioni che sono state fatte sugli opifici di aziende, ex aziende, purtroppo atriane, fallite, non sono operazioni in cui l'amministrazione ha avuto un ruolo attivo. Quelle sono state operazioni nelle quali c'è stata, se vogliamo, anche una lecita speculazione economica da parte di imprese che hanno rilevato all'asta fallimentare quegli opifici e li hanno poi riconvertiti. Lei dice non c'è ruolo da parte di cui. Non c'è stata nessuna, è stata un'opportunità che casualmente è caduta su atri. Atri, rispetto per esempio alla vicenda dell'ex opificio di una nota azienda, purtroppo non è andata poi, diciamo, andata male, che produceva cucine componibili. Il comune di Atri ha avuto soltanto come, diciamo così, contropartita per quell'operazione un riconoscimento, mi si passa il termine tecnico, non tecnico, anzi di 47 mila euro per la modifica del cambio di destinazione d'uso, perché prima era un opificio, quindi industriale, poi è stato trasformato in commerciale. Ma non c'è nulla, non c'è una strategia dietro precisa. Sì, può replicare, però volevo chiedere appunto anche il suo discorso della filiera politica, quanto è importante a suo avviso? La filiera politica è estremamente importante e ovviamente io ne sono avvantaggiato, perché come è noto in Regione c'è una coalizione di centrodestra con il Presidente Marsiglio. E che noi la filiera politica ci è stata favorevole e l'abbiamo dimostrato in tanti aspetti. Intanto, per quanto riguarda ad esempio l'ASP2, in cui abbiamo salvato quello che costituisce un vero e proprio patrimonio ormai della città, perché nella provincia di Teramo è stata l'unica, oltre all'Aquila, dove, oltre all'ASP di Teramo, c'è una seconda che è l'ASP di Atri. E quello riuscimmo ad ottenerlo grazie ad un'azione, una forte azione diplomatica che io condussi addirittura direttamente con il Presidente della Regione Abruzzo. La filiera politica è importante, l'abbiamo dimostrato per le scuole, perché è come si fa a dire che lì non c'è stato, non siamo stati indiscutibilmente favoriti con tutti gli indirizzi che sono arrivati ad Atri. E anche per quanto riguarda l'ospedale con il nuovo piano sanitario, l'ospedale di Atri è sostanzialmente quello che non è stato penalizzato, perché se è vero che sul piano sanitario è stata tolta la WOSD di oculistica, quella di fatto non andrà via, perché sarà reinserita, se non è stata già reinserita, addirittura sull'atto aziendale. Quindi tra i vari presidi, l'ospedale di Atri continua ad essere quello che continua ad elargire il maggior numero di prestazioni e ovviamente per quanto riguarda i ristori intanto c'è da dire che nel periodo del Covid era un dovere morale quello di rispondere all'emergenza in quel periodo prima di parlare di ristori. Insomma, in questo la città di Atri si è sempre contraddistinta come esempio di civiltà per, voglio riutilizzare un termine di Gianmarco, per dare e non per prendere. Quindi in quel periodo era doveroso rispondere all'emergenza. Poi per quanto riguarda, scusa un'ultima cosa, non è vero che sugli investimenti che ci sono stati, e di questo sono testi mode, ma ne parlerò nei prossimi giorni, non ha inciso. Sull'imprenditura locale in due occasioni ha inciso. Quali? Sia per quanto riguarda l'acquisto delle Iezioni di San Martino e sia in parte, seppur limitatamente, per quanto riguarda l'ex Menozi e anche un po' per quanto riguarda l'ex Iezioni, perché c'era un problema con delle... tecnicismi? Sì. Ok. Fatemi fare l'avvocato del diavolo, perché a proposito di filiera politica, io mi volevo un po' agganciare alla domanda maligna che sto per farvi. Ovvero, diciamo, Ferretti, si dice che ad Atri in realtà si è stata un po' indebolita, diciamo, dall'aspetto della surroga di Assolfi, perché in realtà abbia ricevuto poco dalla regione, perché Assolfi si è concentrato troppo sulla sua surroga e poco solo nel far ricadere dei benefici ad Atri. Al tempo stesso, Marcone, diciamo, si dice che lei, insomma, è vicino a Sottanelli, di cui però anche lì, in quanto a filiera politica, non si capisce dove dovrebbe stare, perché è vero che ad Atri per due volte è appoggiato al centro-sinistra, però comunque Giulianova appoggia il centro-destra, nello stesso teramo capoluogo, Sottanelli appoggiato al centro-destra, quindi non si capisce dove è riconducibile la filiera di Sottanelli. Quindi una in teoria si è persa per la surroga, l'altra per dimensione politica. Ecco, se volete replicare entrambi alla mia malignità, siete liberi di farlo nei modi, come credete. Marcone, spero che lei si è prenotato. No, per una questione di alternanza. No, no, prego, prego. Se no, se vuole parlare, no, io non ho problemi. Prego, vale. Ah no, io allora volevo fare alcune puntualizzazioni, ma senza polemizzare. quando Ferretti giustamente rivendicava il merito di alcune operazioni politiche, eccetera, diceva... No, non eludo la domanda. No, no, non arrivo anche al dubbio. No, no, non eludo, non eludo. Se poi magari recupero quel tempo che prima ho concesso in più, che è stato eroso dal mio intervento. Quando parlava di ASP, poiché ieri ho sentito dire, l'ho seguito con grande attenzione da Maremoto. L'aspettavo. Ecco, appunto. Quando ho sentito dire che lui si è attribuito il merito dell'ASP, dell'ASP2 di Atri, dicendo io, perché diceva che in buona sostanza il sottoscritto non avrebbe lasciato una traccia, non avrebbe fatto nulla anche da assessore alle politiche sociali, mentre lui sosteneva il fatto di essersi, come dire, non il fatto, di essersi appropriato del merito di questa operazione di salvataggio dell'ASP2. Semplicemente dico un dato. Sottoscritto è stato assessore alle politiche sociali con Astolfi Sindaco dal 2008 al 2013, giugno 2013. Tu sei stato assessore da giugno 2013 fino a giugno 2014. La legge di riordino delle IPAB è datata 2011, per cui adesso ti puoi appropriare tutti i meriti, ma non è una polemica, è soltanto per dire che forse qualcosa... Legge che se non sbaglio a portare la firma di Polo Gatti, che però non è vicino a... No, no, ma è giusto. Questo lo dico per ripristinare un po' la verità dei fatti, perché io non metto in dubbio che lui si sia speso personalmente, io non lo so e non metto in dubbio quello che lui dice, però attribuirsi in maniera esclusiva il merito di un'operazione nella quale io all'epoca ero assessore in carica, nel 2011 mi sembra oltremodo, come dire, ingiusto. Detto questo, per quanto mi riguarda Sottanelli fa... il partito di azione fa delle scelte, come dire, che sono scelte anche di circostanza. Noi siamo un partito del 4%, del 4,5%, ho visto gli ultimi sondaggi, ci danno... La sua filiera adesso è centrosinistra? La mia filiera è centrosinistra, assolutamente, e io rimango ancorato al centrosinistra, quindi vengo da quel tipo di operazione. Quando mi sono candidato nel 2008, mi sono candidato in quota liberal socialisti, perché in una lista civica trasversale, quindi non una lista di centrodestra, lista in cui Ferretti attualmente, lo stesso Astolfi e tutti gli altri, che sono poi gli stessi più o meno che c'erano nel 2008, continuano ad essere, in questi ultimi anni ha preso una connotazione più politica, in cui i partiti hanno assunto ruoli, hanno costituito gruppi, ma nel 2008 era una lista veramente civica, trasversale, in cui c'erano esperienze di destra, di centrodestra e di centrosinistra, giusto per essere chiaro. Sottanelli, da buon stratega, fa delle scelte, non dico di circostanza in maniera opportunistica, fa delle scelte che tengono conto inevitabilmente anche di una, come dire, forza politica che è quella che è. Essere schierati da una parte in una tornata elettorale in un comune dove c'è il ballottaggio potrebbe, soprattutto in prima battuta, potrebbe significare tutto e niente. Io sono abituato poi a fare sempre il ragionamento a consuntivo. Dire cose all'inizio potrebbe essere anche, come dire, destabilizzante. Ok, Ferretti. Vabbè, intanto per quanto riguarda le ASP non è che me ne voglio appropriare. È vero che la legge è del 2011, ma la legge di riordino nulla centrava proprio sulle definizioni delle ASP. Le definizioni delle ASP furono fatte tra settembre 2013 e febbraio 2014, del numero delle ASP, perché la legge non definiva niente. La legge definita, prevedeva anche, scusami se ti interrompo, dobbiamo essere obiettivi, la legge prevedeva la possibilità di un'istituzione di un seconda ASP grazie ad un emendamento inserito su indicazione il sottoscritto. La prevedeva la possibilità di farla e poi fu fatta solo in provincia di Teramo e in provincia dell'Aquila e quello ovviamente me ne occupa io anche per fare la seconda ASP in provincia di Teramo, perché ovviamente c'era la guerra e per istituirla soprattutto ad Atri, perché ripeto fu fatto il ridosso delle elezioni del 2014, poi da settembre circa 2013. Per quanto riguarda la surroga di Astolfi, non è vero assolutamente che questo ha penalizzato la città di Atri. Queste sono sciocchezze ovviamente messe in giro spesso dall'opposizione, perché ad Atri in questi anni sono arrivati finanziamenti di ogni genere, sia per quanto riguarda le opere pubbliche, sia per quanto riguarda il sociale, anche per quanto riguarda l'ospedale. Nonostante la rete sanitaria abbia penalizzato diversi presidi ospedalieri, quello di Atri sostanzialmente non ne ha avuto nessuna penalizzazione. Quindi queste sono le prove evidenti di quello che dico, perché poi le pubbliche amministrazioni si muovono per atti e quindi non si capisce quale penalizzazione avrebbe avuto in realtà Atri. Scusate, una domanda velocissima, vi chiedo proprio di essere, anche se l'argomento è tecnico, un minuto ciascuno. In discrezioni dicono che appunto i conti, la salute dei conti comunali diciamo non è in buona salute. Come mi fa piacere questa domanda! È vero che così, soprattutto perché vi sperticate a diventare sindaco di un comune che non è in buona salute? Ma non è vero affatto! Come mi fa piacere questa domanda! Facciamo l'alternato! Chi inizia, scusi? No, è giusto, tocca a Marcona, è giusto. No, io per carità, ma non volevo interrompere Ferretti, era giusto per, anche per capire il suo tempo, giusto per sottolineare un fatto evidente, un fatto di numeri. Come di Atri è passato dall'avere un disavanzo di circa 2 milioni e 200 mila euro, cinque anni fa ad oggi a 3 milioni e 600 mila euro. Questo è un dato, sarà un dato tecnico, sarà un dato, è un dato, c'è un disavanzo che più o meno ammonta a queste cifre. Lo stesso commissario ha dato delle indicazioni precise, così come il Revisore dei Conti, entrambi hanno dato delle indicazioni precise, addirittura indicando una strada molto precisa, quindi stiamo attenti, cioè il dato reale numerico c'è. Poi ci sono, come dire, delle situazioni che sicuramente possono essere nel tempo, si può programmare una spending review, si può programmare un rientro del debito, si possono programmare tante cose, però il problema esiste. Ok. Allora, mi fa piacere tantissimo questa domanda perché è la prima volta che ne riesco a parlare, nel senso che prima ho sempre dimenticato un po' di affrontarlo. Allora, la storia messa in giro dal centro-sinistra sul maxidebito... Però un minuto, eh, sindaco! Eh, no, sul maxidebito... Eh, ma questo è un... Guarda, sul maxidebito del comune di Atri è una maxiballa, perché prima ci hanno messo in giro la notizia che il comune di Atri era in uno stato di dissesto, che il commissario non si sa che aveva trovato e anziché addirittura non si sarebbe votato a giù. Al momento com'è? Il comune di Atri non ha una situazione di dissesto, proprio non ha le situazioni per poter fare un dissesto. Poi che c'era un debito di 4 milioni di euro, il commissario ha approvato il bilancio e non c'è traccia di nessun debito. Quel disavanzo, come sanno tutti quelli che sono pratici, è un disavanzo tecnico. Disavanzo tecnico si intende che ci sono degli accantonamenti. È come se io dicessi che ho 10 milioni di entrate e 10 milioni di uscite, non ho né avanzo né disavanzo. Se poi lo Stato mi impone di fare 2 milioni, perché ci sono dei problemi sulla riscossione, di mettere 2 milioni in banca, è ovvio che ho 2 milioni di disavanzo, ma ho 2 milioni in banca. Quindi essendo un disavanzo tecnico, di fatto non c'è nessun disavanzo tra entrate e uscite. Però c'è anche da dire, lui è un tecnico, che proprio per pareggiare queste poste, spesso e volentieri, si ricorre a voci come i crediti di dubbia esigibilità, su cui ovviamente va fatta tutta una valutazione. Quest'esigibilità, fino a quando è tale? Ma appunto, dicevo, proprio per quello che è un disavanzo tecnico. Non dovuto tanti ai crediti inesigibili, ma soprattutto al fatto che c'è un problema di allungamento dell'esigibilità. Su cui tra l'altro abbiamo lavorato e quindi, sotto il profilo del debito, noi non abbiamo lasciato nessun debito. Quindi, mi sembra di capire, se entrambi vi ricandidate e non siete impensieriti, insomma, da... Intanto però voglio respingere, perché insomma, fino ad ora siamo stati tranquilli e sereni, Ferretti attribuisce al centro-sinistra, non so se al sottoscritto o a chi ha delle dichiarazioni che nessuno di noi ha fatto. Noi abbiamo letto gli atti del commissario, abbiamo letto il bilancio e abbiamo fatto delle valutazioni. Quindi non è vero che il Comune ha il debito? No, non si... il Comune ha un disavanzo tecnico di quasi 4 milioni di euro. Non è vero che il Comune ha un debito. Piercio, per favore, stai buono però, per favore. Quindi, allora, quindi... Faccia perdere, su. 4 milioni di euro di disavanzo ci stanno e lo dice il debito. Tant'è che il commissario dice che bisogna procedere a le dismissioni addirittura della rete del gas e compagnia bella. Sono dieci anni che lo dicono. Però, se voglio dire, lo dice il commissario... Sono dieci anni anche i tempi tuoi. Benissimo, ma lo sta dicendo. Quindi per lei Ferretti dice un fatto tecnico che non le impensisce. Penso, forse... Ma meglio, io sono contento, cioè se fosse così non è che io auguro il male al Comune dove io vivo, ci mancherebbe altro. No, però diciamo... E ma gli hanno fatto del male, perché con il ricorso loro hanno la responsabilità dell'aumento di tutte le tariffe fatte dal commissario. Ma non è vero, non è stato aumentato nulla. Non è stato aumentato nulla. Bene, vi prenderò queste dichiarazioni e farò un video per avere stato quello che è stato aumentato. Allora, siamo in chiusura. Io vi chiedo di essere, come dire... Di cui avete la responsabilità politica. E come dire, l'appello perché se entrate di candidate a sindaco vuol dire che comunque lo Stato di Salute dei Conti lo riterete in qualche modo gestibile con diversi strumenti, immagino. Marcone, appello al voto o un minuto? L'appello al voto ovviamente è legato all'idea del cambiamento della discontinuità. Una lista giovane, una lista nuova, una lista fresca, una lista fatta di persone competenti, una lista fatta di persone scevre dai condizionamenti politici e dalle tattiche politiche, eccetera. Io credo che sia arrivato il momento di cambiare perché comunque la situazione atriana, al di là delle posizioni e delle idee, è evidente a tutti. E io penso che Atri stia recependo questo messaggio di cambiamento. Quindi l'invito che io faccio è dateci la possibilità di amministrare perché credo che sia arrivato il momento, anche in un'ottica di discontinuità, sia arrivato il momento di rompere quelle incrostazioni che inevitabilmente si creano quando le amministrazioni, come dire, durano troppo tempo, tanto tempo. E quindi credo sia arrivato il momento di dare un segnale forte di discontinuità amministrativa. Ok, è rimasto dentro il minuto, faccia altrettanto lei Ferretti. Vabbè, l'appello al voto che faccio io è quello su una strada giusta, su un percorso sicuro già avviato, dove oltre all'esperienza amministrativa ci sono anche nuove professionalità, professionalità di eccellenza che possono dare un contributo e quindi è un misto tra esperienza amministrativa e anche ovviamente passione che viene da chi per la prima volta entra in politica. Perché ovviamente quello cui faceva riferimento non è un percorso di discontinuità. Se si pensa, come dico sempre, che è stato nove anni e mezzo con noi e quindi soprattutto per continuare tutte quelle opere che abbiamo in itinere e per valorizzare, come vogliamo, ulteriormente l'aspetto turistico, il patrimonio storico e artistico della nostra città, per difendere la pubblica istruzione, rilanciare l'ospedale, eccetera, eccetera. Ok, bene, io vi ringrazio per il contributo, come dire, effervescente, dialettico e comunque pacato, ringrazio entrambi i candidati, ringrazio lei Gio Marco Marconi, ringrazio lei per Giorgio Ferretti, ringrazio voi telespettatori per essere rimasti sin qui, Io vi do appuntamento sempre mercoledì prossimo, sempre alle 21, buona serata. Grazie. 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 Grazie.